Ciao, bentornati sul mio canale! Questa volta prepariamo una semplicissima, velocissima e tradizionalissima torta di mele. La ricetta è la più classica possibile, con le mele bagnate nel limone per un sapore davvero particolare. Gli ingredienti che vi servono per prepararla sono questi. Se decidete di prepararla in inverno o in autunno, vi consiglio di aggiungere un pizzico di cannella all'impasto. Gli ingredienti e il procedimento li trovate non solo nella descrizione qui sotto, ma anche sul mio blog, lacuchinasopraffina.com. Se alla fine del video la ricetta vi è piaciuta e il video anche, lasciatemi un thumbs up e un commento. E ovviamente non dimenticate di iscrivervi al canale. Non mi resta che portarvi nella mia cucina, andiamo a preparare questa fantastica, semplicissima e buonissima torta di mele. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!